Benvenuti al settimo giorno del Minuto Tero Olimpico. Stamattina ultima gara di carabina con Barbara Gambaro nella tre posizioni donne. La storia di Barbara non è quella dell'enfant prodige, ma piuttosto rappresenta la storia di tanti atleti italiani, ma con un finale leggermente diverso. Dopo un paio di anni nella Nazionale Junior, non è riuscito inizialmente a fare il salto nella squadra senior, ma lei ci credeva e ha investito 5 anni di allenamenti e sudore per riconquistarsi un posto nella Nazionale. Mentre si prende un master in comunicazione e mass media diventa un elemento fisso della squadra in preparazione olimpica. E alla fine ce la fa, aggreggiata a queste Olimpiadi con le aspirazioni di entrare in finale. E anche se non è riuscita, forse quel sogno che aveva la ragazza di 18 anni oggi è arrivata a una conclusione, indipendentemente dal risultato. Domani parliamo come la dislocazione del poligono olimpica a Chateau ha influenziato gli atleti e la loro esperienza olimpica.